benvenuti alla cittadella di saladino uno dei monumenti storici più impressionanti del cairo questa magnifica fortezza si erge con orgoglio su una collina offrendo uno sguardo affascinante nel passato medievale dell'egitto la cittadella di saladino conosciuta anche come la cittadella del cairo fu costruita nel gesuonto secolo dal grande leader musulmano saladin o saladino noto per il suo ruolo nelle crociate questa fortificazione strategica fu eretta per difendere il cairo dalle invasioni crociate per servire come sede del governo dell'epoca avvicinandovi alla cittadella noterete le sue imponenti mura e le maestose porte progettate per resistere a sedi e attacchi la fortezza si estende su una superficie di circa treci ettari ed è circondata da spesse mura e torri rendendola una fortificazione formidabile una volta all'interno sarete accolti da una miscela di architettura e design islamico la cittadella comprende diverse strutture notevoli ognuna con una propria storia e significato uno dei punti salienti è la moschea di muhammad ali nota anche come moschea di alabastro che domina lo skyline della cittadella costruita all'inizio del 19 secolo da muhammad ali pasha questa moschea è famosa per le sue pareti di alabastro e le sue impressionanti cupole il suo interno è altrettanto spettacolare con decorazioni intricate lampadari maestosi e un tranquillo cortile un altro sito importante all'interno della cittadella è la moschea di al nasir muhammad questa moschea costruita nel pasto secolo riflette lo stile architettonico del periodo dei mamelucchi è caratterizzata da bellissime colonne di marmo motivi geometrici elaborati e un grande cortile centrale offrendo uno spazio sereno per la riflessione non perdetevi il museo nazionale militare situato all'interno del terreno della cittadella questo museo espone la storia militare dell'egitto comprese armi armature e reperti di diverse epoche storiche offre una panoramica completa dell'evoluzione militare dell'egitto e dell'importanza strategica della cittadella nel corso dei secoli la cittadella ospita anche la moschea di suleiman pasha intitolata suleiman pasha uno dei comandanti militari di saladino la moschea è conosciuta per il suo design semplice ma elegante che contrasta con le sture più ornate alle più ornate all'interno della cittadella mentre esplorate la cittadella prendetevi un momento per apprezzare le viste panoramiche del cairo la posizione elevata della fortezza offre un punto di vista mozzafiato sulla vasta città compresa la torre del cairo e il quartiere storico del cairo vecchio la cittadella di saladino non è solo una fortezza è un simbolo della ricca storia e del patrimonio architettonico dell'egitto la sua posizione strategica la sua importanza storica e la sua architettura spettacolare la rendono una meta imprescindibile per chiunque sia interessato a esplorare il passato dell'egitto grazie per avermi accompagnato in questo tour della cittadella di saladino e spero che abbiate apprezzato conoscere questo notevole sito storico e che vi ispiri a esplorare più a fondo il ricco tessuto della storia egiziana buona continuazione della vostra visita